Musica Bra ragazzi sono TheShark Oggi come potete vedere Vi ho portato un doppio video E questo qui Ha il secondo della giornata forse Poi dipende se riesco a caricarlo Questa sera oppure domani mattina E questo video in pratica Su survival games L'avevo registrato con un mio amico Proprio alla fine è crashato Non so cosa è successo E quindi l'ho registrato da solo Allora non vi spoilerò niente Vi dico solo una piccola cosa Che questa qua è la prima registrazione che ho fatto E' bellissima Perché In pratica come posso dire Ehm Sono arrivato al deathmatch Cosa mi è successo neanche quando gioco da solo Quindi ragazzi Veramente GG E ragazzi niente Vi lascio al video Ci vediamo Al prossimo Niente Ciao 5, 4, 3, 2, 1 Bene al massimo Facciamo senza di lui Cioè facciamo senza parlare Giochiamo in team E basta Purtroppo Che sarebbe stato meglio parlando Però Ecco qua infatti Non riesce a rispondermi Perchè cazzo Non riesco a correre più a questi Ma tu puoi spiegare Ok Meno uno Ok Era pure messo bene Pantaloni in maglia Ok Perfetto Aspettate un attimo raga Che qui provo a prendere La cesta Che è un attimo 2 Allora Tra un po' Forse mi richiamo Forse non lo Forse no Non lo so Ancora non è Sì è morto E' pure quittato Meno che non è crashato Quindi Non so che cosa dirvi Vabbè Allora intanto Io sto qua Siamo rimasti Già in 6 Cazzo Due spettatori Intanto vi chiedo team Ragazzi Perchè poi Li vado a clean Li vado a ammazzare male Tipo clean upper Ok Aspettate Intanto Ho detto un po' Apposto l'inventario Qua Io ci ho messo Un po' Tutto in disordine Ok Intanto C'è un altro amico mio Che mi scrive Ok Che lui Lo sa Anche lui Che sto registrando Però Con il fatto che Bula Stavo pure qua Lui E mi ha detto In che server Stavo Però C'è anche Il minigame Stavo Perchè Io ho detto Già che sto Tutti l'Hellcraft Però Beh ragazzi Se riesco a registrare A prima botta Questo Questo SG Veramente Raga G.A Ok Qui già c'è stato qualcuno Ok Però Ho lasciato un po' Di roba A me può servire Ci ho un cazzo Più o meno Asciucco le spade Ok Allora ragazzi Iniziamo a andare Adesso Non so dove Andiamo in qualche parte Vediamo Ok Non siamo messi Neanche troppo male Devo dire Perciò Vediamo cosa Possiamo fare Lo so ragazzi Ma vediamo Un po' Loro Ok Adesso Dobbiamo Trovare la roba Noi Fare l'oggio Allora Allora Vediamo un attimo Di trovo qualcosa Di meglio Rispetto a tutto ciò A meno che Aspettate un attimo Raga Allora Intanto Mi piace Sta roba qua Che mi serve Però Neanche tanto Però Allora Mangiamoci subito Una pumpkin pie Mangiamo un attimo Qua Direggiamoci Ok Infatti C'è un po' Di roba Allora Di acciarini A quanto pare Siamo pieni A quanto pare Ok Dai Piani Questo qua Sarà tipo Two shot No One shot Addirittura Ragazzi Gigi 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 Raga Neanche sapevo che Che doveva essere Clean up Perché Se sapevo che doveva essere Clean up Non l'avrei neanche provato A colpire Raga Comunque Io penso Che sia quello L'ha messo meglio Io A sto punto Lo penso Veramente Ok Benissimo Elmo di ferro Non è che ci faccio Tanto Solo uno In ferro Ok Allora Veniamo un attimo Quanto c'ho Due di ferro Ok Posso fare la spara in ferro Ora farò Ragazzi Ok Sto dicendo un po' Troppi ragazzi Oggi Ragazzi No Ok Scherzi Cazzo Non laggare Questa qua È fibra manuale Fibra The shark The shark Fibra The shark È questo Ok Ok Comunque Si ragazzi I 3 kill Ci vanno bene Non è che ci fanno schifo Perciò Però no Non ci lamentiamo Però no Aspettate un attimo Ok Ok ragazzi Comunque Si Ape Davvero Ci sta andando Veramente Veramente Bene Questo Hunger Games Anche perchè Io non ho mai fatto Un hg così bello Devo dire la verità Sono rimasti in 3 Eh Ho fatto Se non sbaglio 3 kill Infatti Se non sbaglio Abbiamo fatto Ho fatto 3 kill Ok ragazzi Comunque Si Ci sta andando bene Anche perchè Eh Sto registrando Per la prima volta Adesso Sulla Scraft Uh Cacchio C'è uno dietro Ok Ok Fs Fs Bellissimo Ragazzi GG GG2 Attenzione Un altro GG Oh cazzo 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 Sono Ok Sono Full Vida Ok Occhio Occhio a quello Che è pericoloso Con l'arco A quanto pare Oh cazzo Però laggo 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 Un pochino Laggo Eh vabbè GG Veramente ragazzi Bella partita Veramente Bella partita Ragazzi Mi sono divertito Mi sono divertito molto Spero che La partita Vi sia piaciuta Spero che La partita Vi sia piaciuta E niente Forse Eh niente Non so che di Veramente Questa stupita Addirittura Di me stesso 3 o 4 kill Poi Ve lo scriverò Nel video Quante sono state Ok ragazzi Il video finisce qua Qui da The Shark È tutto Però Volevo Intanto dirvi Che le kill Sono 4 Se non me ne siete Accordi Però Ve lo ho detto Perché inizialmente Mentre giocavo Non me ne ero accorto E Veramente Un GG A hits TA Che se l'incontro Sul server Veramente Continua A scriver GG Per ciò che ha fatto E niente ragazzi Iscrivetevi al canale Commentate Condividete Qui da The Shark È tutto E ci vediamo Al prossimo video Bella Bella